Ciao amici, sono Francesca Agnello e oggi giochiamo a Slitter Rio. Insieme a me c'è mio cugino, Gianni. Ciao a tutti amici di YouTube. Oggi questo gioco si tratta di un vermo che deve... Di Snake, Snake. Che deve mangiare più palline possibili per diventare enorme. E' una copia di Agar.io, soltanto deve essere Snake. Il nome mettiamo... Che mettiamo? La cacca. No, ta... Zanello, ta Zanello. E poi ancora è piccolo. Il nome più idiota non potrei scegliere. La prossima volta mettiamo ora così freddo. E' un po' più volgare, sì. Un po' pornografico. E come vedete qua c'è la classifica, YOLO. YOLOLOLOLOLOLO. E' un terzo. Secondo, secondo. Secondo. Qualche minuto fa... Come si fa a cuore su stasso? Oh, come? Come si fa a cuore su stasso? Sono morto ragazzi. Sono morto. Ora tocca al mio cugino. Il nome è un cambio. E' così freddo. Allora... Il tuo cugino non ha un nome molto significativo a questo gioco. E inizia. Un po' si bugga per la connessione italiana. E poi io inizio a giocare sul telefono. Quindi... E' una cosa nuova per me. Sto diventando un amiceto molto carino. Ho capito che mi spinto. Guarda quante palline. No. Guarda quello l'ammazzo. Faccio un bello spinto. Aspetta un bello col mio dito davanti. No! Andiamo. No. Ragazzi, per fare lo spinto bisogna toccare due volte lo schermo. Ma diventate piccoli. Sì, perché consuma caroia. A finire il suo gioco diventa un gioco per andare a fare. Per andare a fare. No? Come l'ho disciato? Sì. Ragazzi, vi consiglio di installarlo. È un gioco molto divertente. Ma anche un po'... Sul computer si può giocare. Senza scaricare. Basta andare sul sito. Ma si bugga un po'. Più o meno a me si bugga. Agli altri, ma... Per allora, forse... Ho notato appena un tizio che era piccolissimo. Vabbè. Ci bisogna accontentare. E ancora questo giolo che è secondo. No, come l'ho disciato, però... Hai visto? Quando diventi grande li puoi intrappolare. Non so, ma quando diventi grande diventi sempre più grande. Vai. Grande. Sono diventato bravo. Tutte le... La prima volta che gioco, ragazzi. Fortuna del principiante. Sì, Fortuna del principiante. Sta questa per giocare. Lo stavo imprigionando. Lo sai che si può imprigionare pure da piccoli? Un bici. Basta poi sempre in un verso, a cerchi. Oh, ho, ho, ho. Sì, giunti, no. 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 Vaffanculo, dai. Non l'avevo visto. Hai bucato tanto. Sì, io non l'ho ancora così fuori, perché ho portato fortuna. Oltre, io non ce l'ho segnato bene. Tu sembra azzurro, sei. Sì, quel verde ho portato un culo, ma lo culo così... Di quelle verde... Io anche allora... Oh, 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 oh. Ma no. Cioè, che culo. Che culo micidiale. Dai. Io non l'avevo così tanto culo. Quello si chiama cocco. No, cocco significa cazzo. Che in inglese. Perché stanno andando a zigzaghi? Non lo so. Ma che qua mi intrappolano. Devi lasciare il venuto per fare continuare il film. Puoi impigionare già qualcuno. Sì, ma non il momento. C'è molto, c'è molto male. Ma purtroppo mi faranno le notifiche di... Poi ci si confonde. Perché sono tutti blu. Sono tutti blu. Stanno facendo finta di essere avatar. Papà! Papà! Sono molto! Ecco a me. Però così freddo può stare pure, ma non a tutti. Papà! Ero molto più lungo di te. No, mi ha ammazzato due. Mi ha ammazzato di più di quello. Che culo. Guarda, era piccolo. E' passato in mezzo. Voi vi state baciando. E' passato con questo culo. Immagina pure... Femmina. Ho l'occhio che ti blocca. Ma vaffanculo, dai! Questo sì che si tratta culo. Ah, questa pubblicità... Purtroppo rovinano i video, ragazzi. Se l'avete visto nel video. No? Non è tanto. Sono tutto se l'ha visto nel video. Ragazzi, per questo video, 10 like. Sempre con i soldi 10. E speriamo di raggiungerli. E' facile raggiungere 10 like. Ma quando ti fanno delle action kill come questa! Madonna! Eh, facciamo un'altra attacca. E poi c'è un'altra giocata e poi basta. Che allora il video... Sì, se ho fatto un massimo, un'altra volta da uno piccolo, piccolo, piccolo. Così risulta un pochino pornografico un'opera. Bisogna dire cose brutte nella vita. Che poi morì per aver detto una cosa brutta nella vita. Ancora non ho visto nessuno. Appena lo vedo, lo mozzo. Un po' che morì fuori. Se tocco il muro, ragazzi, mi disintegro nel nulla. Ho saputo questa cosa? No. Se tocco il muro rosso. Addio. E come ti stai suicidando? Ci voleva la canzoni da dare. Ma ancora non ho visto nessuno. Stanno... Spaventando di... delle cose di loc. Ah, ecco. Dai, raga, dai che andiamo a Berlino. Dai che andiamo a Berlino, raga. Chiudete le narici, amici. Si va a Berlino, pepe. Per favore non lo fai più. No! È un corso piccolo così, ammazzarlo. Sì, piccolo. È questo quanto a te? Quasi. Non sto dicendo che stavo per prenderlo. Stavo per ammazzarlo. Per favore disattivo alla D&D. Salve, talve, 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 talve. Che ne so? E questo? E questo qua dietro? Andiamo a Berlino, pepe. questo canale di youtube ho aperto mio mio no non è beggio nato per farvi divertire e anche ancora c'è un'opportunità per passare tempo con voi se qualcuno se sbatte contro qualcuno ho l'opportunità di vivere non voglio fare la fine del titanic no ancora e questo video finisce qui ancora con la pubblicità del gioco di calcio 10 like e bella a tutti ragazzi